ciao sono nico della generia lo iu di lambrata milano oggi vi mostrerò come fare un perfetto gin tonic anche a casa vostra innanzitutto partiamo raffreddando il nostro bicchiere con una buona quantità di ghiaccio fondamentale sempre raffreddarlo molto bene quindi prendiamo un bel cucchiaio il nostro spoon raffreddiamo buttiamo via il ghiaccio del raffreddamento ok nuovo ghiaccio bello colmo oggi utilizzeremo un gin italiano prodotto da rezzo molto morbido leggermente speziato serve un misurino dovete utilizzare sempre il misurino la quantità precisa sono per quanto riguarda 8 cl poi andiamo ad abbinarci un paio di botaniche in questo caso del macis che è l'involucro della noce moscata questo perché è prodotto con questo botanico quindi andiamo a esaltarlo senza mai esagerare deve solo dare dei piccoli sentori e della cannella anche esso presente nel nostro gin bene io utilizzo sempre cannucce di pasta quindi plastic free e andiamo ad abbinarci una fantastica tonica della fever tree molto morbida ai fiori di sambuco che si sposa perfettamente con il nostro gin artigianale italiano semplice pratico e veloce il nostro gin tonic al prossimo video